Lorenzo, grazie delle prime, bello Benvenuto nella Felix Army, Lorenzo, grazie mille del tuo sub Benvenuto Ma io guardo Addirittura fish Oh cazzo, oh cazzo Posso chiedere che lavoro fai? Se mi dici che col coronavirus lavori il doppio delle ore Certo, Blue Zesha Allora quindi tu picchi un champion Un'altra persona picchia un champion E non è che dici vuoi swappare lane No, vuoi swappare il champion Scusate ma a me viene un piccolo dubbio So che in Iron non è, com'è che si dice Non conta molto questa cosa ma Non è meglio se ognuno gioca al champ che ha scelto Perché si presume che sappia giocare quel campione se l'ha scelto Cioè scusatemi Se io picco Syndra E tu picchi cazzo insomma al fight E dici no ma è meglio che me decisti a Syndra Non mal fight Non è che dici Non è che dici facciano le swap No Tu tieni mal fight e prendo Syndra Tanto è la stessa cosa Nessuno sa giocare i propri campioni Cioè è allucinante Allucinante Ma c'è troppo cosa ma Olaf dice Allora Visto che gara in giungla A mio parere non è O non va giocato Allora io Non è che gli dico vai top vado in giungla No io dico tu prendi Olaf Così giochi Olaf giungla che è più forte Poi magari io non ho mai giocato Olaf Non lo so giocare Questo qua mi dà il soggetto Cioè vi rendete conto E' allucinante Non è un tiltè Ma forse non sai cosa è successo In Jamsele Ci sta Sarai entrato adesso Comunque è allucinante Consegno servizio Pizza a domicilio Ah ho capito Capito A mio top lo giochi con il Conquer Contro i tank si Tank Bruiser si Gente Squish invece ci metto Quello per Slow Warly in genere Anzi no aspetta Questo Lado bot perché non mi fido del pool di questo Olaf Onestamente Comunque per chi non avesse capito Questo successo in Champs Elite Il mio top laner E per qualche C'era stranito del fatto che io giocassi Gare in Jungle Perché dice che è meglio top E anziché offrirmi il lane swappare Voleva darmi il suo champ E lui il suo premade ha iniziato a scrivermi Swap Gun and Swap Take Olaf Così niente Io gli ho scritto Qual è il vostro problema Magari io non ho mai giocato Olaf Magari non lo so giocare Voi volete mandarmi Il lane con un champ Che non ho scelto Minions ha spawned No Sam Quando cambiarono Garen L'hanno disattivato Beh forse era meglio Ma questa qua non c'ha pozze Boh Niente Magari sono tp Challenger Garen Allora perché non l'ha piccato Voleva Olaf Ah dici me Eh vabbè No per loro non è contemplabile La Riot ha fatto apposta Sti cambiamenti Per far andare Specialmente per chi Sa giocare poco Per far andare Sti campioni in giungla E niente Dei Olaf Il nostro DC È in base AFK Con l'ignite Riccio Grazie Le Prime Riccio Benvenuto bro Benvenuto nella Felix Army Oddio Eccola È un botto un po' lento Questa Ecco qua Forse va alla Garen Perché avrebbe fatto schifo Con Olaf Perché ne sappiamo noi Ah no C'ha l'ignite L'ignite Grasp Gregorio Donate Da euro Due punto Sessantanove Sessione Grazie mille Gregorio Della donation Grazie mille Caro Andiamo un po' Se riesco a farmi questo No No C'aveva lo smite Quelli Che palle C'aveva lo smite C'è quello è tornato In lane Già con le pezze al culo Vabbè No Chi è che sta smarfando qui Bot morto Sono ufficialmente Sono ufficialmente morti In tutte le lane ragazzi Un applauso Manca solo Pyke Proteggi la nostra terra Sto provando a mancare Cassiopeia Sì eh Giustamente Che rinco non cominciano a parlare Sì sì Vedi Sono nuove amicizie queste Oddio lì c'è Jax No no Questo lo prendo io Jax Mi dispiace Quello lo prendo io Non fate cacate Finché non ho la ult Io non ci andrei aggressivo Onestamente È in segreto Il problema di in segreto È che Fa ridere sul momento Quando cerchi le cose strane Tipo nel culo Le cose del genere Ma la gente non scrive tante cose C'è ogni tanto Tipo Ogni due anni Si torna lì A leggere Cosa la gente si infila Su per il culo Ma c'è pochissima gente Che scrive E a me onestamente Tutte quelle cagate Che si facevano una volta Il segreto Degli allunni Che si scopavano Le professoresse Eccetera Insomma Non è che mi piaccia più Adesso ho capito Perché volesse Swappare Il drop laner Hello Hello Vabbè ma questa Sta gente dorme Non so che dire Che schifo i poveri Casoncella Donati da euro 2.69 E un saluto Da Laura E John 3 Eh questo si ferma A spiegarmi il perché Diden si Ma gli stavo pingando In faccia Pingit Ma almeno Stai zitto Se Se Uh Vabbè ma questa qua Questa fa ragazza È illucinante Ma con che leggerezza Giocano proprio Le ranker Devrebbe essere Con loro main Dopo questa infernalta Se questo game Non mi fa impazzire Sì Quindi Faccia un po' I suoi conti Bella Master bag Grazie mille Del prime Bello Benvenuto Benvenuto Nella Felix Army Perché poi Mi danno fastidio A me Cioè La gente che non guarda Ci sta C'è gente che gioca Dopo anni Con la cam bloccata Non si rende conto Una cosa succede Diobono Dall'altro lato Della sua lane Però Se poi mi dici E pingalo Ma pingalo Diobono Le stavo pingando In faccia È come la gente È come la gente Le pinghe le SS E poi dicono SS Cazzo l'ho pingato Perché poi Lì proprio capisci Che Anche se tu L'avessi Anche se tu Non l'avessi pingato Non sarebbe Chiamato un cazzo Arriva quel momento In cui Tu non pinghi Le SS Il tizio Viene gankato E ti dice SS Tanto anche L'avessi pingato Non l'avessi guardato Quindi cosa lo pingo A fare le SS Ne son felice Master Sono molto felice Meglio Meglio se non viene Perché tanto Moriamo tutti sicuro Ecco qua E adesso Andiamo a pestare Pure lui Oh jesus Oh c'è puoi fare Ma non boh Ma sto attaccando Cosa sto attaccando Un muro Che roba ragazzi Che vede Che roba Dice di sentire Più youtuber Che streamer Adesso Adesso è il contrario Elvis Comunque Scusa Se non t'ho letto Casoncella Laura Scusa davvero Grazie alla donation Neanche Gregorio Grazie mille Scusate ma Ogni tanto Sti game Mi fanno impazzire Ma visto che giocate A LOL Penso lo sappiate E non debba giustificare Mi lanciate la passiva So anche che L'abbiamo nerfata Tipo In schizzo a farm Io commenti Supporter De una tera Euro 2.96 Complimenti per il video Sui rare parro Virgola Simballe O simballao Grazie mille supporter Grazie tante Unlucky per il Drey Che cazzo Ci si è affiondato Subito dopo Che l'ho ucciso Che sta prendo io Se per me Oddio Quelli Un'altra Vabbè Tocca a ultarlo Oddio Mi ha hitato in pieno A caso mi ha hitato Vabbè Vado back Abbiamo preso Double E' ok Io buono Se per la faccia I taramme Beshtemiamo Sta accendo tutto Tu dici Ma che è sta ward Ma poi chi la mette Ma davvero Jax Mette sta ward qui Io non ci credo Senza ulti Inutile Gancare Purtroppo Coli ci distrugge Tanto non subisce danno Non abbia riduzione di cure Non ci abbia niente Oddio E' andato a scampia Con il golem lì Ti giuro Vorrei tanto rancarlo Ma non ha senso Perché noi gli facciamo danni Vabbè ragazzi Non so chi sei Vabbè ragazzi Ma stasera è allucinante Stasera è allucinante So chi sei Sembra una minaccia Tipo Vabbè ma tanto non subisce Olaf non l'ha attaccato Io non penso Che io l'abbia attaccato Lui Vabbè Ok Andiamo pure Vabbè Siamo in qualche modo D'ammazzarli No adesso no di certo Lo rubo Lo rubo E Inculeto Fanculo vi odio tutti Ma si stanno tutti flammando Ma cosa sta succedendo Povero Olaf Che tristezza La quarantena Uguale Tutti gli italiani Sul lol Tutti che si inserano Scherzo Viamo anche se faccio schifo Ok Clean party Sì Dai Olaf Olle Sette garen come passare più forte L'ultima Fa più cose Però garen è garen E su quello non si discute Garen è sempre fortissimo Ricordate E che non sto massando lei E questo un po' si fa sentire Adesso purtroppo mi stream snipera pure Jax Ce ne fosse uno Un minimo in vantaggio Alla pari No No Invece no Non ho visto Ma Lucian Se ne è accorto un po' Tarby Ancora Oh Si dice Il canetti Vengo a fare due Piriti Fai cagare Come pochi Perché la gente In iron Deve fare schifo Ed essere anche tossica Non capisco Io non ho fatto niente di male Io sono 5-2 Sono l'unico Sono l'unico Che ha kill del mio team E la gente mi flamma Io non comprendo Io lo dico dopo Alla live Ma chi è questo? Ma che cazzo ne so Si chiama Cladding Shadow È un'ombra Cos'è un perito? Che cazzo ne so io? Cosa sono i periti? Scorreggia Ok Cazzo ne so di cos'è Tanto sarei in qualche lingua Terrone ovviamente Ma su quello Non ci sono dubbi Sono due livelli Sopra loro Jungler Però Non ci sono Non ci sono Non ci sono Vabbè È squaregy in siciliano Ok Buona saperse Oddio Olaf Anche in salvo Sono le squaregy Ah ok Gli rilascio Ma sì dai Lingua terrona Potrei risparmiartela Va bene In lingua meridionale Adesso ti senti meno offeso Non lo dico In maniera cattiva Cioè Lo dico perché Siamo una parola Meme La cosa è il terronis Poi Qualcuno usa male O amen Però Cioè Non ho detto Che schifo i terroni Il top Il top gioca da season 5 Ed è ancora bronzo È colpa del team Assolutamente Assolutamente Ho di mana E via Siamo 12 7 Io sono 6-2 7 tipo Il bambino Che ha scoperto Che l'altro È famoso E quindi deve Oddio Lo kill Forse ce l'ha con me Perché gli sto portando avanti Il game Oddio Che posa Che le ho cacciato A questa Eccola Questa è stata stilosa Visto Troppo non posso Far niente Ecco Io vi tolgo Questa Eccolo lì Olaf Addio Oh grazie Oh grazie Nella colpa di Olaf Si sono mangiato Tutelare di luce Senza alcun motivo Vabbè ci sta Voglio dire Perché no È my trolling Ma non lo so Dicelo tu Ecco qua Oddio Mamma mia Che danni Dai Olaf Oddio Dai Olaf Dai cazzo Bella pesta kill Ma questa Anziché Anziché farmi La mia giungla Ah mannaggia Ah mannaggia Sono velocissimo Oh sì Oh sì Ok 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 Si fia dritto Lega Se lo grabbi Se lo grabbi Fai che ci fai un favore Se ne hai voglia Se no non importa Se no non importa Lo fai terribile Back immediatamente Io ce la metto Tutte ragazzi Purtroppo Il mid laner È come non averlo Non ha fatto mai Una kill Un'asco Che noia Quel campione Onestamente È proprio noioso Più che altro Oh yes Oh Andiamo un po' Andiamo un po' Se ce la facciamo qua Dai per favore Seguite la folla Raga Please Non mi chiedo molto Olè Così mi piacete Così mi piacete Ragazzi Sto proprio tirato dritto Ok Per un cazzo Il trodo No Adesso ci penso io Demaciato Jax C'era quasi Ragazzi Ovvia Dai però lui Non ha detto nulla Poverino Come on Garin Carriaz Adesso Vai 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 Sono al flash C'è morto Oddio Da cosa è morto Pyke Ah da Ok Da Zoe Mannaggia Quel champ Lei può prendere questo Ma noi dobbiamo andare via Da qui Bene Bene Non abbiamo nessuna fretta Prendiamo questa Vai a cercare la ult A breve Ok 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 Bella Scusate Mi è scappato Prometto che non lo faccio più Oddio Ma che cazzo Oh Bobby Oh Che cazzo succede Va bene Va bene Ah non l'ho fatto in all chat Vabbè Meglio Meglio Meno male Cazzo Cazzo e le mani Ce l'ha fatta Olaf deve pushare bot qua Dai bro Perchè devi andare back Non hai fiducia in te stesso Do I'm pen delimitor mid Olaf purtroppo è andato troppo tardi Non ha trastato Olaf Non ha trastato Non ha trastato È too late No 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 vattene vattene Do I'm pen delimitor mid Ok Il cazzo è pisciato Eh vabbè Ascolta Non è una grossa perdita Io volevo che prendessero l'inibitor lì Però È che Cioè non sono uniti Purtroppo non sanno cosa devono fare Questo è il problema principale Di questo elo Purtroppo non sanno cosa devono fare Purtroppo non sanno cosa devono fare Venite qua Ok Uh ok Ascolta mi succhi il cazzo Porca puttana se lo su Non scrivo nulla Ah sono tentato di scrivere Let's dance Ci potrebbe stare C'è del lato oscuro Non adesso Ascolta di scrivere ah il mio team fa più cagare di te buto muto gliel'ho cariata ricordate sto coglione di tovagliolo che cazzo è il tovagliolo? ah tovagliolo! ah Jax poverino il povero tovagliolo ha avuto solo la sfortuna di beccarti aspettavo solo una partita del genere 3 dark angel craft grazie ai due mesi bro bentornato bentornato comunque se scrivi su twitch e non ti leggo mi dispiace c'è un po' di gente qua fai cagare se non ti leggo è perché c'è troppa gente in chat cioè spero te ne accorga ok bro a posto a posto tranquillo no 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 tranquillo posso se vai giugimi certo certo andiamo a fare due insieme bro e te lo riscrivo no vai tra buone ranked ciao bello mamma mia mamma mia quanto godo cazzo quanto godo quanto mi fa schifo la gente come te sei proprio mi fai ribrezzo proprio i bambini che vogliono attirare attenzioni ho sentito che sei uno streamer fai cagare poverino ho sentito che sei uno streamer ma lo sai che fai popo cagare mamma mia leccami le palle proprio te è andata bene che mi sono anche fatto la doccia stamattina e non sanno di sottopalla te è andata abbastanza bene bro porca puttana su youtube con copertina grazie a tutti